Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Apriamo con la 11 dove in direzione Firenze, per viabilità esterna che non riceve, ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola. Sulla Fibili per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Fare inoltre attenzione per personale su strada, segnalato allo svincolo di San Mignato. Sul raccordo Siena-Firenze, per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Chiudiamo con i treni fino al 21 settembre, per lavori sulla linea Grosseto-Siena, la circolazione è sospesa tra Grosseto e Buon Convento, prevista riprogrammazione del servizio con corse bus. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!